Il Presidente Trump firma il decreto per offrire assistenza all'Italia. Al tigiano il commento dell'ambasciatore americano in Italia, Lewis Eisenberg. I nostri due paesi sono così vicini. Credo che la parola giusta sia insieme. Le nostre emozioni e i nostri valori sono legati in maniera indissolubile, soprattutto in tempi di crisi. L'America e gli americani sono al fianco dell'Italia. Adesso, come già in passato, tante volte, sappiamo che insieme saremo più forti e insieme potremo sconfiggere questo nemico, Covid-19. Supereremo questa prova. Ci avviciniamo al momento della guarigione e non vedo l'ora di continuare a esplorare questo incredibile paese. Restiamo al sicuro ora, per continuare ad ammirare in futuro la sua bellezza, con la sicurezza della vittoria. Buona Pasqua, state al sicuro, usate il gomito, usate il pugno. A presto. Grazie. 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 Grazie.